Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questo pomeriggio al Palazzo del Quirinale il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e gli ha affidato il compito di verificare la possibilità di un'intesa di maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico per costituire il Governo. Il Presidente della Repubblica ha chiesto al Presidente della Camera di riferire entro la giornata di giovedì. Il Presidente Fico rendirà a breve una dichiarazione. Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio il Presidente della Repubblica, Mattarella, per avermi affidato un bandato esplorativo, che come avete già visto ricerca la possibilità di una maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, alla fine di costituire un Governo. Mi metterò al lavoro da subito e secondo me è un punto fondamentale che si deve partire dai temi per l'interesse del Paese e dal programma per l'interesse del Paese ed è quello che cercherò di fare da subito. Grazie a tutti.